Buongiorno, sono Fidanza Diego, sono manager in director di Polo Impianti, con piacere annunciamo che quest'anno compiamo il 40esimo, siamo a 40 anni che siamo nel settore. Polo Impianti è un'azienda nata dalla famiglia e ancora oggi è un'azienda familiare, quindi pensiamo che certi valori siano ancora oggi presenti nella nostra azienda. Siamo un gruppo, un team piccolo ma molto affiatato e penso che questo sia uno dei punti di forza di Polo Impianti. Se festeggiamo i 40 anni vuol dire che ancora oggi, in questi ultimi anni, dove tutti hanno respirato un clima di crisi, essere qui oggi ancora penso sia un premio per Polo Impianti, chi ha creato Polo Impianti, appunto un premio per quello che ha realizzato, per quello che è riuscito ad apportare su questo mercato. Quest'anno presentiamo un prodotto molto importante per noi, ci abbiamo creduto, abbiamo investito, sono parecchi anni che cerchiamo di spingere sotto l'aspetto del risparmio energetico tramite l'utilizzo delle nostre coperture isotermiche, di cui siamo produttori ormai da quasi 30 anni. È uno dei nostri core business perché siamo divisi fra coperture e pulitori. Pulitori Dolfi, direi il leader mondiale di cui siamo distributori da 31 anni, per cui direi un altro grosso traguardo. Tornando al campo isotermico, del risparmio energetico, quest'anno presentiamo questo software che abbiamo realizzato con l'aiuto di un energy manager che abbiamo conosciuto ai tempi della partnership con Coni Servizi. Abbiamo fatto realizzare questo software che, direi il primo sul mercato, offre una stima abbastanza veritiera, molto vicina a quella che è la realtà, sul risparmio energetico che si può avere in un impianto, dal privato a un centro wellness, a un hotel, a una piscina sportiva, quindi anche d'uso agonistico, tramite l'utilizzo delle nostre coperture isotermiche. Il software richiede l'inserimento veramente di pochi dettagli e nell'arco di un paio di minuti dopo l'inserimento si può avere una stima del costo dell'impianto, il risparmio energetico fatto su un anno, il payback che è importante e direi che i risultati, i dati che si ottengono sono molto spesso sbalorditivi, perché ancora oggi nel nostro settore penso che ci sia molta ignoranza nel campo delle coperture isotermiche e non si abbia la reale idea, percezione di quello che si può andare a risparmiare tramite l'utilizzo delle coperture. Ecco che quindi lo presentiamo quest'anno. Solo una parola per un altro prodotto molto importante, quest'anno presentiamo tutta la linea S di Dolphin, è una linea nuova, decisamente innovativa, dove pensiamo che questa nuova linea possa sicuramente far crescere Metronics e Polimpianti nel campo della distribuzione, non tanto semplicemente nei numeri con i propri clienti, ma bensì andando a strappare quote nel mercato i concorrenti che penso che negli ultimi anni siano abbastanza fermi e non hanno idee nuove da proporre sul mercato. Grazie a tutti.